Ciao a tutti, oggi voglio parlarvi di internet, lo conoscete tutti benissimo ovviamente, il fatto che state guardando questo video ne è la prova. Le cose che vi racconterò oggi però, probabilmente non sono conosciute da tutti. Il servizio che utilizziamo ogni giorno per svago lavoro, ha dei lati piuttosto macabri e a dir poco spaventosi. Non sarà il solito video sul deep web, bensì voglio farvi conoscere alcune cose che possono davvero spaventare chiunque. E dopo la visione capirai che anche tu che stai guardando non sei mai davvero al sicuro. Per cominciare vi dirò una cosa che probabilmente nessuno di voi vorrebbe sentirsi dire, ma dato che amate provare brividi di paura, eccovi serviti. Esiste un motore di ricerca chiamato Shodan che permette a chiunque di trovare qualsiasi dispositivo collegato ad una rete internet. Cosa significa? Tramite questo servizio, in poche parole, chiunque può conoscere luogo e attività di smartphone, pc, videocamere e molto altro. È considerato il motore di ricerca più spaventoso al mondo ed agisce rintracciando l'indirizzo IP dei dispositivi. È particolarmente amato dagli hacker che hanno la capacità di entrare in questi dispositivi e visionare ciò che trasmettono in rete. Il software ispeziona internet alla ricerca di ogni dispositivo connesso. È riuscito ad individuare anche i pannelli di controllo dei sistemi elettrici più complessi, degli equipaggiamenti scientifici, dei forni crematori e persino di una diga in Francia. Ciò significa che con il giusto mix di competenze tecniche e sadismo, chiunque potrebbe rintracciare uno di questi congegni, accedervi e tagliare l'elettricità a un'intera città, inondare una valle o mandare in fusione una centrale elettrica con un solo clic. Credo che questo fatto sia particolarmente spaventoso perché fa capire quanto siamo vulnerabili durante la navigazione online. Pensare che uno sconosciuto e potenziale malintenzionato possa avere accesso a tutti questi dispositivi con la stessa semplicità di una ricerca su Google fa capponare la pelle. Ma a questo punto vi starete chiedendo, esiste un modo per proteggersi da questi attacchi? Fortunatamente sì, e dopo aver fatto le ricerche per questo video ne sono venuto a conoscenza. Si chiama NordVPN ed è un servizio che permette di cambiare il proprio indirizzo IP in continuazione durante la navigazione online, rendendo così invisibili tutti i dispositivi collegati alla rete. Senza questa protezione, infatti, il nostro indirizzo IP può rivelare la nostra posizione potenzialmente a chiunque. Il loro servizio è veloce, sicuro e affidabile, e grazie alla loro gentilezza e disponibilità sono riuscito a testarlo personalmente prima di consigliarvelo, quindi potete stare tranquilli. Mi sono trovato davvero bene e devo dire che sapere di essere protetto e invisibile sulla rete mi ha sollevato parecchio, soprattutto dopo aver scritto il video. Con NordVPN è anche possibile cambiare la propria posizione in base ai propri interessi, quindi per esempio grazie al servizio è possibile accedere a video o pagine web non disponibili in Italia, ma non solo. Ritengo che sia il servizio migliore di questo genere perché mi ha permesso di fornirvi un codice sconto del 70% per il piano di due anni, e in aggiunta a ciò vi regaleranno anche un periodo extra a sorpresa. Vi lascio il link nella descrizione, inserite il codice SOLO HORROR per ricevere lo sconto. Ringrazio davvero tanto NordVPN per aver reso possibile questo video e per avermi concesso di darvi la possibilità di pagare molto meno per il loro fantastico servizio. Detto ciò, possiamo andare avanti. Un altro fatto piuttosto inquietante riguardo internet, anche se all'apparenza sembra innocuo e utile, è che gli algoritmi dei social network e del web in generale ci mettono in contatto con persone che hanno interessi e idee simili se non identiche alle nostre. Cosa c'è di male? Nulla, almeno a prima vista. Infatti, se una determinata persona si sente emarginata o prese in giro dalla società, è possibile che internet la spinga a trovare siti e gruppi di persone con le quali si può sentire capita e accettata. In questi ambienti, le ideologie spesso si trasformano in atteggiamenti tossici che finiscono col sviluppare delle nicchie virtuali piuttosto estremiste. Vi faccio un esempio per spiegarvi meglio. Elliot Roger era un ragazzo di 22 anni che si sentiva emarginato dalla società. Pensava di essere bello, ma per qualche motivo le ragazze sembravano non interessarsi a lui. Così, iniziò a pensare che la società odierna gli fosse estranea e che le donne, in qualche modo, dovessero essere punite. Questa sua idea, che altro non era, è stata ingigantita e portata all'estremo dalle sue attività online. Come abbiamo detto prima, il web l'ha fatto connettere solamente con persone del suo stesso pensiero, senza fargli conoscere altri punti di vista. E questa estrema chiusura mentale costante l'ha portato a commettere un gesto folle. Il 23 maggio del 2014, il ragazzo uccise 6 persone e ne ferì altre 14, ma non prima di annunciare il tutto nei forum che frequentava e su YouTube. Nel video che pubblicò su YouTube, il ragazzo spiegava cosa stava per fare e i motivi per cui voleva farlo. In poche parole, si sentiva in dovere di punire le donne per averlo rifiutato e gli uomini sessualmente attivi perché è invidioso di loro. Dopo aver commesso il folle atto, Elliot si tolse la vita. Ecco, il suo è un caso eccezionale, se così possiamo dire, ma in sostanza, questo è ciò che può accadere. Non lo trovate spaventoso? Io sì, decisamente. Ma ora andiamo avanti. Tutti noi abbiamo visto almeno una volta qualche video in cui vengono fatti degli scherzi divertenti, ma a volte, questi scherzi che sul web vengono chiamati prank, si spingono decisamente oltre. È il caso del prank, chiamato SWATing. Per chi non lo sapesse, la SWAT è un'unità speciale della polizia statunitense che si occupa di compiti ad alto rischio, come il salvataggio di ostaggi e attacchi terroristici. Bene, il prank consiste nel contattare la squadra e mandarla a casa dell'ignaro malcapitato, il quale si ritroverà minacciato dalle forze dell'ordine che gli staranno puntando armi di ogni tipo addosso. Divertente? Forse no. Uno di questi scherzi è finito in tragedia, quando il giovane Andrew Finch venne ucciso da uno dei membri della squadra. Questa tipologia di scherzo nasce solitamente come vendetta per faide nate durante le partite e qualche gioco multiplayer online, in questo caso Call of Duty. Tyler Berris era esperto dello SWATing, tanto che gli altri richiedevano il suo intervento per organizzare lo scherzo. In questo caso, infatti, Berris venne coinvolto da un altro giocatore dell'Ohio che ha richiesto il suo intervento per colpire un altro giocatore. Tuttavia, l'indirizzo fornito era a quanto pare sbagliato e la polizia, chiamata da Berris in seguito alla segnalazione su una sparatoria e un rapimento, si è diretta a casa di Andrew Finch, che non c'entrava assolutamente nulla in tutta la faccenda. Quando ha aperto la porta ai poliziotti, questi hanno fatto fuoco, uccidendolo, a quanto pare a causa di un movimento giudicato sospetto. Come risultato di uno scherzo su internet, una vita è stata spezzata e Tyler R. Berris, che all'epoca dei fatti aveva 26 anni, deve scontare la pena di 20 anni di carcere per aver organizzato lo scherzo. Ora però, parliamo un po' dei nostri tanto amati social network. Anche questi hanno un lato decisamente macabro. Per esempio, alcuni studi hanno mostrato che le persone possono diventare letteralmente dipendenti dai social. Ciò può comportare lo sviluppo di depressione e sensazione di non avere in mano la propria vita. In aggiunta a ciò, come visto nel documentario Social Dilemma, c'è stato un enorme incremento della depressione nei ragazzi statunitensi fra il 2010 ed il 2011. È salito del 62% nei ragazzi più grandi e quasi triplicato per i più piccoli. Ma non solo, è aumentato anche il numero di suicidi. Fra i 10 e i 14 anni, il tasso di suicidi è aumentato circa del 150%. Questi dati coincidono con l'ascesa dei social network e nonostante non siano direttamente correlati, ci offrono uno scenario davvero triste, ma soprattutto inquietante. Ma un'altra cosa sconcertante riguardo i social network sono i dati che raccolgono su di noi. Qualche anno fa, Google e Facebook hanno rivelato alcune informazioni che ci aiutano a capire a quanti dati personali hanno effettivamente accesso. Tra questi, sappiamo per certo che Facebook e Google sanno che faccia abbiamo, dove viviamo, dove lavoriamo, le persone che ci piacciono e le nostre abitudini economiche. Ok, questo non è davvero spaventoso, ma sicuramente fa riflettere. Delle piattaforme virtuali ci conoscono fin troppo bene, ed è quindi assodato che quando un servizio è gratuito, il prezzo da pagare sono le nostre informazioni personali, che poi vengono vendute a partner pubblicitari. Possiamo stare tranquilli però, il peggio che possa capitare è vedere qualche pubblicità estremamente in linea con i nostri gusti e abitudini. I nostri dati personali dovrebbero quindi essere al sicuro. Forse. Bene, io spero di non avervi preoccupato troppo con questo video, e ovviamente spero tantissimo che vi sia piaciuto. Come sempre vi ringrazio infinitamente per la visione, e vi do appuntamento al prossimo spaventoso video. Grazie per la visione!